In scena fino a domenica 27, anche quest'anno, la Sagra del Calzone a Teramo, in frazione Scapriano, sta registrando una grande presenza di visitatori. Nella scorsa edizione abbiamo registrato 25.000 presenze e anche quest'anno, nonostante il tempo, anche i nostri concittadini teramani ci hanno gratificato della loro presenza. Quindi siamo soddisfatti e speriamo di migliorare anno per anno. Una Sagra che racconta i sapori della tradizione paesana, che prevede in ogni serata l'allestimento di stand enogastronomici per assaporare i gustosi calzoni, ma non solo. Oltre al calzone, patatine, oliva alla scolana, frittella con prosciutto, arrosticini, salsicce e frutta di stagione, cocomere, melone. Gli eventi in programma sono venerdì, ci sono i Mala e i Bravi Ragazzi, poi andiamo a sabato con la Notte della Taranta, dove ci aspettiamo una grandissima affluenza. Per finire domenica vorremmo fare un gran finale con il nostro amico Vittorio Il Fenomeno, che salutiamo tutti insieme a Domenico, che sono due grandi nostri amici.